Io ti ho consigliato di non rendere nota la condotta di Wickham. Ora la povera Lydia soffre a causa mia. Questa è davvero divertente! Chi? Chi c'è? In strada c'è il signor Darcy! Mia cara nipote, se non conosci il ruolo giocato dal signor Darcy nelle trattative di questo matrimonio, ti informo all'istante. Lizzie! Il signor Bingley mi ama, capisci? Orgoglio e pregiudizio. Ho sbagliato, Bingley, e ti chiedo scusa. Terza e ultima parte. Mercoledì alle 20.55